La platea si è di nuovo allargata, noi prima avevamo due barra tre interlocutori, oggi si amplia. Potrebbe essere un'opportunità in più, secondo Roberto Bertola, il rinvio al mittente delle due offerte vincolanti da parte dei due fondi americani, Apollo e Lo Star, per l'acquisto in blocco di Nuova Banca Etruria e delle altre tre good bank nate dalla risoluzione dello scorso 22 novembre. E dopo la bocciatura delle proposte si aprono nuovi scenari in merito all'accessione dei quattro istituti bancari risanati, ripartendo appunto da una nuova gara. All'orizzonte potrebbe esserci anche l'ipotesi spacchettamento, ossia non la vendita in blocco delle quattro good bank, ma la cessione delle singole banche. Siamo quattro identità separate, siamo quattro banche, che nelle trattative si sia arrivati a un certo punto a pensare a una vendita in blocco e una delle opportunità che potevano esserci. Ci può essere la vendita in blocco, la vendita singola, la vendita accorpata di due o tre. È aperto al rapporto con gli interessati. Ecco, ciò che preoccupa forse un po' è la scadenza, quel fatidico 30 settembre di cui parliamo da mesi. Beh, io ricordo quando parlavamo del 30 aprile. Io ho sempre detto allora non mi preoccuperei tanto della scadenza perché il mio compito è quello di preoccuparmi della vendita. La stessa cosa la dico oggi. Io credo che arriveremo assolutamente in tempo a quella scadenza, ma il focus è la vendita. La scadenza è un qualcosa di accessori. Cresce intanto la preoccupazione da parte dei dipendenti di Nuova Banca Etruria, a timore in merito al futuro dell'Istituto di Credito manifestati in più occasioni da parte delle stesse rappresentanze sindacali. Indubbiamente hanno attraversato anni in cui avevano un traguardo che sembrava vicino e poi tutte le volte si vedevano il traguardo spostato in avanti. Capisco, però vedo come la reattività, la voglia di reagire sia fortissima e ci sarà una volontà di dimostrare al compratore che quando arriverà troverà una forza lavoro molto dedica al futuro di questa banca. Come sarà il futuro di questa banca? Quale potrebbe essere? Beh, il futuro di questa banca è di riappropriarsi della propria storia che cinque anni di difficoltà, di non coerenza con quella che era la sua missione hanno rischiato di far dimenticare. Oggi sarà compito mio e di chi verrà dopo di me di far sì che si ricordi la storia nel suo complesso e non un episodio triste, ma un episodio limitato nel tempo.